Sette, la sera alle otto, invece loro dalla mattina alle sette alla sera alle otto ne fanno cento, cento e 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 due, è più spiegativo, poi se c'è già va di vento, quindi noi abbiamo usciti, ma c'è una piccola netta, è più bello, è più bello, è più bello. Bene, vengo un po' dritto, vai, vai, giù, giù, giù la mano, vai, da, se ti vedi, yeah, guarda dentro, ce la fai anche andare male, yeah, yeah, bene convinto con la voce al centro, giù la mano e guarda dentro, yeah, yeah, guarda dentro, bello convinto con la voce, giù la mano, giù la mano, giù la mano, bravo, 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 tre, yeah, bravo, giù la mano, giù la mano, guarda a destra, inizia a partire a destra, bravo, e vai, 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 guarda un po' dentro, yeah, vai così, guarda dentro, bello convinto, pesa di livello, yeah, guarda dentro, bravo, guarda dentro, bravo, giù la mano, bravo, giù la mano, ramba, tre, go, grea, super, bello convinto, bello convinto, bravo, bravo, e vai, giù la mano, vai Giorgio, goce, vai Giorgio, di più, e guarda dentro, vai Giorgio, yeah, 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 super, vai, vai Giorgio, goce down, vai, vai un filo dentro, vai, 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 goce, yeah, bravo, bello convinto, guarda dentro, è bellissimo sulla costa, guarda bene avanti, tenuto, aspetta, aspetta, vai, 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 Anyway, stiamo presto, bravo Giorgio, super vai vai monta monta Johnny guarda bene le mani aspetta aspetta vai oh yeah usci bravo Johnny venuto aspetta vai vai yeah yeah ringraziamo Giovanni Ria un peggio per Cristo Pinocchio 68